Ecco qua che cominciamo la nostra diretta aspetto un attimo che vi colleghiate che vi colleghiate tutti vediamo un po' chi arriva che arriva nella stanza e comunque chi arriva è il benvenuto e oggi parliamo di un argomento molto interessante per questo tempo la puntata l'ho intitolata le trappole visibili e invisibili direi che è molto attuale come tema però è anche molto molto antico in realtà fatemi sapere se mi sentite e datemi qualche feedback ciao Roberto ciao grazie sentite bene tutti allora intanto saluto sempre Anna Tamburini Torre la ringrazio per questo spazio che mi dà e anche Enrico Ballantini che è diciamo il factotum del di focus 3.0 il mistero della vita qui veramente stiamo parlando di un mistero della vita perché la trappola le trappole invisibili sono millenarie sono da tantissimo tempo ti sento benissimo bene ottimo ottimo feedback grazie e parlerò di questo libro io questo libro l'ho scritto nel 2001 quindi la prima traccia poi l'ho ristampato adesso nel 2019 questa è la copertina è una copertina profettica come vedete perché senza ancora sapere di tutto quello che poi nel 2020 sarebbe successo ho scelto questa immagine di queste mani che sembrano uscire spingere un velo o qualcosa di morbido ma che non si capisce bene che cosa sia proprio perché questo tipo di meccanismi sono davvero molto difficili da individuare io li ho chiamati trappole perché secondo me dà l'idea di essere dei meccanismi che ci bloccano bloccano la vita bloccano l'amore bloccano la felicità e ci impediscono praticamente di fare una vita sana e bella e questo è molto grave a vostra consolazione o a mia consolazione sappiate che questa trappola non è oggi non è il covid è il covid è solo una delle ultime trappole vigenti una grave perché ha bloccato moltissimo tutto il mondo però questi meccanismi di intrappolamento di blocco delle energie umane datano veramente a circa 5000 o 6000 anni fa quindi le prime forme di coercizione perché di questo si tratta cioè di un potere dominante che voleva impedire alle persone di esprimere loro stesse e voleva bloccare queste energie in modo da poterle sfruttare economicamente è molto antico è un modello estremamente antico e vediamo se ciao anna grazie grazie max ciao carla paola ok perfetto allora naturalmente vi ricordo che voi potete fare domande quindi io ogni tanto mi avvicinerò lo schermo e guarderò se ci sono delle domande anche perché è una buona occasione per sviscerare casomai un lato di queste trappole che casomai non è stato chiarito prima non lo sapete bene o diciamo rimane ancora oscuro allora intanto vi racconto un po la storia delle trappole le trappole nascono con il con la dominazione con il concetto di dominazione l'umanità non ha sempre scelto un modello sociale di dominazione per sua fortuna almeno nel tempo un tempo molto lontano ma man mano che ci avviciniamo ai tempi nostri vediamo che questo modello sociale è diventato ormai generalizzato tutto il mondo ha adottato questo sistema piramidale un sistema sociale di competizione che mette gli uni contro gli altri e che prevede un capo un capo all'apice di tutta questa enorme struttura sociale e per mantenersi tale deve operare coercizioni le coercizioni prendono tantissime forme possono prendere la forma di una legge possono prendere la forma di un peccato religioso possono prendere la forma di una tradizione tutte queste forme mirano a una sola cosa a togliere la libertà agli individui e se togliamo la libertà agli individui in realtà togliamo l'amore togliamo la bellezza della vita togliamo la capacità di amarci l'un l'altro che è quello che è alla base in realtà di ogni civiltà una volta fu chiesto a un antropologa quale fosse il segno più antico delle civiltà umane e tutti pensavano che la risposta fosse intorno a un'ascia o una punta di freccia o a qualche utensile che rappresentava diciamo la prima forma tecnologica dell'umanità la professoressa invece rispose dicendo che il primo segno di civiltà a suo parere era il fatto che era stato trovato un femore riparato vecchio di 20.000 anni il che significa che quella persona che si era rotta il femore in qualche incidente eccetera era stato curato perché un femore una persona sola non può sopravvivere a un femore rotto quindi significa che delle persone un clan un gruppo sociale si era preso cura di questo individuo e l'aveva portato a guarigione noi sappiamo che il femore si rinsalda circa dopo 45 giorni quindi evidentemente questa persona è stata accudita per molto tempo e questo significa che quella quella società era una società di cura era una società di accoglienza in una società cooperativa questo tipo di società sono state preferite forse addirittura non necessarie in un tempo così antico dove le diciamo le fiere gli animali eccetera erano così selvaggi e la vita era così difficile se non ci fosse stata cooperazione tra gli umani molto probabilmente noi non saremmo qui a raccontarlo ma le cose sono cambiate le cose nella storia umana sono cambiate molto ed è cambiato il concetto della vita soprattutto è cambiato il concetto sociale e si è cominciato a pensare che in termini di povertà in termini di miseria e quindi si è cominciato a derubare la terra degli altri le terre di conquista le conquiste appartengono al sistema guerresco al sistema instaurato circa quasi 4000 anni fa con la guerra di troia la prima guerra narrata dall'umanità sul modello della quale si sono poi stanziati tutti gli altri modelli di tutte le guerre ancora oggi le guerre classiche vengono combattute in un modo molto simile a quello raccontato dall'iliade le due schieramenti opposti e le varie battaglie le varie strategie quindi diciamo la struttura mentale è rimasta praticamente invariata per quasi 4000 anni e questa sicuramente la la guerra è una bella trappola ma è una trappola visibile molto visibile che ci ha accompagnato la l'umanità per per migliaia di anni fino adesso fino all'ultima guerra mondiale forse quest'ultima guerra che stiamo combattendo adesso non ha le stesse caratteristiche di quelle classiche però diciamo che fino a pochi decenni fa le guerre erano sempre simili l'una all'altra e si tratta quindi di una trappola visibile una trappola che blocca le energie uccide le persone distrugge i raccolti crea povertà crea rancori crea violenza crea brutalità esistono delle altre trappole invece sempre che partono da molto lontano che invece sono invisibili ovvero non tutte le persone se ne accorgono di essere sempre sempre in trappola sicuramente il nostro corpo se ne accorge tutte le varie malattie indotte soprattutto anche queste moderne nell'obesità diabete il cancro sono tutti derivati da trappole trappole ecologiche il nostro sistema diciamo planetario sta soffrendo moltissimo e noi siamo terrestri e come tale noi dobbiamo fare i conti con questi inquinamenti eccetera però dopo abbiamo vediamo un po se ci sono delle domande intanto io aspetto buonasera buonasera a tutti ciao ciao cari quanti siete bene 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 sono contenta quindi noi dobbiamo fare i conti anche con delle trappole invisibili queste trappole invisibili però sono create dal sistema di dominazione perché noi per creare un sistema di dominazione dobbiamo creare degli schiavi si dominano gli schiavi ovviamente io in questa diretta userò parole molto schiette molto definitive è chiaro che ci sono tutte le sfumature la schiavitù non è solo quella con le catene i polsi eccetera non è la capanna dello zio tom la schiavitù può essere anche invisibile ma è una consuetudine o è una tradizione o è una cosa socialmente riconosciuta valida in questo campo mi riferisco soprattutto alle donne alle quale è stato fatto il lavaggio del cervello da moltissimi da moltissimi anni magliaia di anni in cui devono rimanere in casa domo mansit lanam fecit cioè la donna è stata mentalmente schiavizzata a volte anche fisicamente anzi soprattutto fisicamente per tantissimo tempo fino a che ha accettato il suo ruolo ma non crediate che l'uomo non stia in trappola anche lui perché affinché la trappola possa esistere e perpetrarsi nei millenni entrambi i componenti sociali devono mantenerla in vita se c'è una donna chiusa in casa incarcerata in casa c'è anche un carceriere che deve tenerla incarcerata quindi questo porterà sempre e comunque entrambi i sessi ha una vita grama ha una vita triste ha una vita senza amore e adesso qua abbiamo la parola chiave credevo che il primo segno di civiltà fossero le sepolture ma la storia del femmo ricurato è molto bella sì è più bella delle sepolture le sepolture sicuramente erano molto diffuse ed erano sicuramente un atto di pietà su un atto di amore per i propri defunti e anche un atto sacro perché la morte era considerata sacra allora prima tutto era sacro adesso nulla è sacro e questa è la tragedia umana che si sta compiendo in questi tempi molto tristi molto duri molto grigi la storia perché vi ho raccontato la storia del femore perché implica vita cioè si è scelto la cura si è scelta invece di lasciare morire la persona si è scelta di curarla è un atto di cura è un atto d'amore quindi abbiamo la certezza che questi nostri antenati fossero amorosi avessero delle attenzioni l'uno verso l'altro e questo ha creato le società così come erano ed erano società egalitarie ed erano società di base matrilineari io di questo parlo molto per chi ha letto il libro quando troia era solo una città ne parlo moltissimo faccio un lungo escursus su questi antichi tempi in cui sicuramente le guerre non esistevano perché perché noi sappiamo per certo che la prima guerra raccontata dall'umanità in questa area mediterranea diciamo dove noi siamo fu quella di troia quindi sicuramente prima di quella prima guerra non c'erano guerre e questo la dice lunga su come vivessero questi antichi nostri predecessori per tornare invece a trappole più moderne vediamo un po' ciao Loredana grazie per arrivare invece a trappole più moderne cosa ha guardate che il potere di dominazione è geniale bisogna dire che trova sempre dei sistemi talmente sottili talmente arguti talmente intelligenti per imbrogliare per bloccare per sfruttare per schiavizzare le persone che hanno davvero qualcosa di diabolico direi e infatti la parola diabolico non è impropria nel senso che si è perso l'idea del sacro e quindi ecco che di contraltare si ha quest'altro tipo di energia che è appunto la energia cattiva la parola cattiva viene da captivus greco che vuol dire prigioniero quindi il cattivo è una persona che è prigioniera e quindi in prigione quindi la cattiveria è la parola anche cattività gli animali sono in cattività vuol dire in gabbia la parola cattiveria ha a che vedere con la libertà e siccome in questo particolare tempo vediamo la nostra libertà minacciata in modo severo e preoccupante direi che l'argomento libertà è un argomento veramente importante da diciamo da dibattere guardo sempre se fate domande verissimo una volta tutto era sacro esatto Paola tutto tornerà ad andare bene quando tutto tornerà a essere sacro ma non sacro dal punto di vista delle religioni perché purtroppo la parola sacro ormai è stata completamente assorbita da un concetto di questo tipo di religioni patriarcali che sono dei sistemi coercitivi per bloccare sempre la libertà i romani dicevano sempre che per dominare bisogna dividere divite e timpera e così ancora oggi così si fa ci dividono vedete tutte queste disposizioni dividono le persone anticamente hanno diviso primariamente gli uomini dalle donne hanno fatto questa grande divisione mettendo questi due esseri nati per amarsi nati per creare la vita nati per accedere insieme al sacro li hanno messi uno contro l'altro in modo da creare queste trappole mostruose per impedire che cosa? l'unica cosa l'unica energia che il potere non può tollerare il potere ha paura dell'amore l'amore è più forte del potere e il potere lo sa ecco perché tenta in tutti i modi possibili di togliere amore e gli esseri umani purtroppo sono caduti in questa trappola si sono odiati si sono picchiati violentati malmenati uccisi hanno creato guerre hanno creato devastazioni si sono odiati l'importante è dividere dividere le fazioni dividere le squadre di calcio dividere la politica l'importante è che ci sia sempre una destra e una sinistra o che venga creduto che ci sia una destra e una sinistra guai se le persone cominciassero a capire che esiste solo un sopra e un sotto esiste solo chi sta sopra chi domina e chi è dominato e se noi cominciassimo a cambiare punto di vista forse qualcosa si potrebbe davvero fare questa è una rivoluzione d'amore nel senso che capendo i meccanismi che ci intrappolano solo capendoli potremmo anche trovare la via d'uscita se noi siamo nati in una prigione solo conoscendo tutti gli anfratti tutti i vari angoli della prigione forse potremmo trovare anche una via d'uscita e la via d'uscita c'è qualcuno c'è sempre riuscito ma appena qualcuno riesce a vedere fuori dalla trappola fuori da questi meccanismi di dominazione ecco che arrivano arrivano i gendarmi arrivano le leggi arriva il ludibrio sociale e quindi la persona che ha capito ricordo un nome per tutti Galileo un nome così di un certo livello Galileo Galilei aveva visto aveva capito che tutto ciò che veniva detto al suo tempo che veniva obbligatoriamente fatto credere era falso e dovette abbiurare dovette purtroppo chinare apparentemente chinare la testa per avere la vita salva perché questi meccanismi di potere se tu non ti allinei con il potere tu sei un dissidente ed è giusto che tu vada quindi a finire nei gulag che tu vada a finire nei vari nei vari diciamo lager ecco usiamo la parola chiara e quindi il potere ha bisogno assolutamente che le persone si odino ecco che vanno bene i social dove ci si può mandare a quel paese ecco che vanno bene le liti familiari ecco che vanno bene la povertà che la povertà rende le persone estremamente violente con lo stomaco vuoto non si può fare filosofia e quindi è chiaro che se io tengo le persone affamate ecco che avrò un buon un ottimo sistema per poterle controllare per poterle schiavizzare quindi il meccanismo vi ripeto è molto antico il potere ha paura dell'amore grazie Arthur sì è il potere ha paura dell'amore l'amore è l'energia che rompe lo schema tutti i grandi amori hanno rotto gli schemi da Giulietta Romeo a Paolo e Francesca o anche recentemente la Wally Simpson recentemente rispetto a quei tempi di tanti secoli fa per esempio la Wally Simpson il duca di Edimburgo e tantissime altre cose l'amore ha sempre rotto lo schema ed è quindi quello che va tolto cercare di togliere l'amore di togliere Eros è stato la come dire l'ossessione di tutte le religioni di stampo patriarcale hanno messo l'accento del peccato sulla sessualità e quindi la conoscenza d'amore era estremamente limitata perché era considerato un atto diabolico ciò che circa duemila anni prima veniva considerato l'atto più sacro di tutti e perché l'atto più sacro perché era quello che creava la vita e la vita era sacra non la morte e quindi far nascere un bambino era un atto sacro ed era tra l'altro un atto che si compiva proprio nei templi per chi è stato a Malta per esempio io ci sono stata un po' di anni fa e in quei meravigliosi templi megalitici di Malta che tra l'altro sono visibili dall'alto e dall'altro dall'alto cioè con un aereo si può vedere la forma che essi hanno ed è praticamente una forma trilobata che assomiglia al corpo di una donna nella grande madre no e in questi templi l'archeologa Maria Ginbutas che è una delle studiose che io amo di più proprio per la sua capacità di vedere oltre il consueto ricordatevi che se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo andare oltre il consueto perché tutto ciò che è già conosciuto non fa cambiare nulla quindi dobbiamo andare in qualcosa che ancora non sappiamo non conosciamo o che forse i nostri antenati conoscevano ma che noi abbiamo perso nelle pieghe del tempo quindi noi dobbiamo andare a rivedere quelle antiche conoscenze e la Maria Ginbutas appunto ha dimostrato che in tutta l'Europa tutta l'area del Mediterraneo il Nord Africa e il Vicino Oriente era ma forse anche in tutto il mondo pare era di base la società era matrilineare quindi una società fondata sulla cooperazione e non c'erano guerre e questo creava quindi un'atmosfera di serenità e l'amore era in assoluto l'elemento principale più importante a tal punto che le donne venivano fatte partorire nel Tempio ora vi immaginate adesso con le chiese che anche qui in Italia come sono fatte le chiese che sono tutte lastricate di morti dove ci sono le cappelle piene di defunti delle famiglie nobili eccetera eccetera e noi camminiamo sulle tombe se una donna potrebbe mai partorire dentro una chiesa è una cosa è una immagine impossibile da concepire oggi eppure era estremamente comune nell'antichità proprio perché veniva considerato l'atto più sacro di tutti l'atto divino della creazione mentre oggi ovviamente viene considerata una malattia una cosa che bisogna ospedalizzare che bisogna chiudere dentro un ospedale questo per farvi capire la differenza quanto è cambiato l'atteggiamento quanto queste trappole man mano si siano instaurate nella mente delle persone e a un certo punto non vengono viste più questa è la cosa ci si abitua a stare male il fenomeno è stato studiato da molti scienziati soprattutto Pavlov siamo i primi del novecento Pavlov fa un esperimento con dei cani e mette questi cani dentro delle gabbie poi nella metà di destra nel pavimento della gabbia immette della corrente lasciando libera la metà sinistra ovviamente il cane la prima cosa che fa è muoversi dalla parte destra e andare sulla sinistra a stare comodo dopo un po' fa il contrario mette la corrente nella parte sinistra e la toglie nella destra allora il cane dopo un po' impara che deve andare dalla parte destra poi dopo un po' di questo gioco il cane si disorienta quando infine verrà elettrificata tutta la gabbia il cane non si muoverà più e anche quando gli verrà aperta la porta quindi sarà invitato a uscire il cane sarà così spaventato che non uscirà più vi ho raccontato questo si chiama fenomeno pavloviano proprio perché fu lui a studiare questi sistemi di comportamento vi ho raccontato questo episodio proprio perché vi voglio fare capire come adesso noi siamo il cane di pavlov a noi stanno mettendo l'elettricità nelle nostre gabbie ora aspetto sempre vostre vostre domande perché perché vedo che siete pieni di complimenti veramente grazie però io vorrei anche sollecitare un po' di domande allora faccio un altro discorso che secondo me è un'altra di quelle trappole millenarie che ci siamo portati dietro da troppo tempo e parlo della sessualità che è stata tagliata ovviamente perché è lì che nasce la vita è lì che è la forza della natura e lì ovviamente il potere deve andare a tagliare più che da altre parti come ha fatto a tagliare la sessualità umana come ha fatto a castrare gli esseri umani perché le persone castrate sono deboli le ha castrate prima mettendole una contro l'altra cioè facendo in modo che gli uomini dicendo agli uomini di essere superiori alle donne di essere le donne di essere inferiori creando quindi questa disarmonia tra i sessi e poi dicendo delle cose assurde ma più sono assurde e più sono state credute uno di questi assiomi io ne parlo molto nel libro questo della trappola è la trappola invisibile è un libro che come dire rovescia rovescia è il modo di vedere le cose vi faccio un esempio tutte le religioni di stampo patriarcale portano in prima linea il mito della virginità perché la donna vergine è così importante addirittura la vergine migliaia di chiese sono dedicate alla vergine la vergine allora nella bibbia maria non è vergine nel senso che non è definita così è definita con una parola ebraica che significa giovane era una giovane donna perché invece è stato poi tradotto con vergine e perché volevo sapere da voi qualcuno di voi ha letto il libro perché ora come ora più è assurdo è roberto è assurdo però però più assurdo e più ci credono esattamente allora il maschio che era teoricamente il dominatore no il sesso forte quello che quello che doveva dominare quindi in qualche modo era quello che aveva anche i vantaggi ad esercitare la sua dominazione rispetto alla donna gli veniva inculcato il fatto che se lui lui poteva andare con tutte le donne però se una donna doveva essere sua moglie doveva essere vergine allora vi siete mai accorti voi uomini di quanto questo mito danneggi il vostro sesso il nostro sicuramente perché per la mancanza di quella piccola membrana moltissime donne sono state uccise sono state lapidate sono state messe a rogo sono state allontanate sono state diciamo buttate fuori dal consesso civile ma perché invece danneggia i maschi è un ragionamento estremamente semplice ma però purtroppo la gente non lo fa ancora la vergine è tale perché non è stata toccata da un corpo maschile quindi è pura la vergine pura è un assioma cosa vuol dire assioma una frase che non si discute nessuno più mette in dubbio che la vergine non sia pura è un assioma è così io li ho letti tutti e cambia proprio lo sguardo allora perché la vergine pura perché non è stata toccata dal corpo di un uomo ma allora secondo voi un corpo di un uomo che cos'è cosa porta di così schifoso da rendere impura un altro corpo gli uomini stessi dovrebbero ribellarsi totalmente allo scempio che questo pensiero fa del loro stesso corpo come si fa a dire un bambino piccolo un bambino maschio quella signora lì che vedi sull'altare è la vergine ed è pura perché non è stato toccato da un maschio ma questo bambino maschio ma quali traumi dovrà sopportare senza capire come mai e perché il suo corpo apporta sporcizia cosa cosa che cosa c'è dietro eppure paradossalmente nessuno si è accorto di questa trappola mortale che ci portiamo dietro da migliaia di anni e che blocca i rapporti perché l'uomo non ha visto l'inganno e quindi ha continuato a credere che una donna vergine fosse pura non capendo che la purezza non è non è un atto del corpo è un atto dell'anima è una scelta che l'anima può o meno fare nella vita tutt'al più una giovane donna che non ha mai avuto esperienze amorose può essere innocente come i bambini nel senso che non fa del male non conoscono non fa del male non non sapendo nulla in realtà è un ignorante ignora il sesso ignora la capacità di dare amore non la conosce in quanto essendo così giovane è inesperta e tutte le società di tipo patriarcale tutte le chiese le religioni spacciano l'ignoranza l'ignoranza dell'amore per una virtù e qui già stiamo rovesciando vedete le trappole mentali come sono sottili sono sempre sotto i nostri occhi le vediamo in continuazione le sentiamo in continuazione e non ce ne accorgiamo il nostro corpo ogni tanto se ne accorge e di fatti si ammala si ammala proprio perché non ne può più non ne può più di questa mente che non capisce di questi occhi che non vedono di questo cuore che non sente e quindi il corpo in qualche modo lancia il suo grido d'allarme e ci fa ammalare e anche questo non è una cosa negativa non è detto che la malattia sia negativa può diventarlo se nonostante il grido d'allarme la mente continua a non capire allora l'anima deciderà di togliere l'incarnazione ovvero di eliminare di andarsene e quindi noi quel fenomeno lo chiamiamo morire oppure la malattia riesce a portare il suo messaggio e a far capire che cosa davvero sta succedendo in quel caso la malattia guarisce e la persona diventa più consapevole la vergine rimane ignorante dell'amore non potrà mai portare l'uomo all'estasi perché ignora non lo sa fare e l'uomo non potrà quindi mai accedere all'amore e anche lui quindi rimarrà ignorante in più rimarrà con l'idea che solo un corpo non toccato da lui sia buono secondo voi che cosa può recepire la mente di un maschio di un giovane di un bambino maschio che gli viene detta questa storia comincerà a vergognarsi a vergognarsi di avere un corpo così che porta sporcizia che porta male e da questa vergogna ci sarà due modalità di base di reazione la prima è chiudersi avere paura essere timido l'altra l'esatto opposto diventare spavaldo diventare violento tanto io sono cattivo comunque perché il mio corpo sporca quindi divento sporco senza capire questi meccanismi profondi noi continueremo ad avere uomini violenti e donne ignoranti ed è uno scempio perché questo indebolisce l'anima mi sembra che questa società questa è paola crea ancora più separazioni tra l'umano e la natura e il sacro sì le nuove generazioni sono ancora più tremendamente separate siccome diciamo il peccato ormai non è un sistema coercitivo che non ha molto più potere potenza perché ormai quasi nessuno più crede che sia un peccato allora il potere ha inventato altri sistemi di divisione ha inventato gli smartphone che se c'è una parola data è proprio smart è una genialata perché impedire alle persone di toccarsi e pensare che mandarsi un messaggino mandarsi pupazzini con i cuori sia la stessa cosa che amarsi è proprio la distorsione che in questo tempo è la distorsione della virtualità del mondo virtuale che sta prendendo un piede davvero pericoloso siamo su una china estremamente pericolosa in questo senso rischiamo davvero di non riuscire più a uscire da una trappola del genere pur vedendola pur capendola non riusciamo a staccarci è una specie di droga di droga e questo porta o dunque Arthur mi chiede quindi la purezza del corpo non esiste no la purezza del corpo non esiste esiste la pulizia del corpo cioè se ti lavi perché il corpo ha bisogno di essere lavato è pulito ma la purezza è dell'anima ed è una scelta profonda che alcune persone fanno e scelgono di diventare pure puliscono l'interno mentre la pulizia del corpo è esteriore quindi è una cosa fisica e basta un sapone la purezza è una scelta profondamente spirituale è la scelta spirituale quando tu rispetti tutto te stesso capisci che il tuo corpo è sacro capisci che tutto è sacro che tutto va rispettato amato e curato il più possibile qualsiasi cosa sia compreso il tuo corpo allora non potrai più fumare per esempio o avvelenarlo con le droghe perché tu rispetti il tuo corpo e lo ami quindi l'atto di purificazione è proprio eliminare tutte le cose impure ovvero quelle che sporcano che distruggono che uccidono e così la persona pura avrà bisogno anche di capirà che la natura ha bisogno di purezza di essere purificata le acque devono essere purificate i cieli devono essere purificati perché se no andiamo verso la catastrofe senza la purezza senza la scelta della purezza noi moriamo e infatti chi non sceglie la purezza prima o poi si ammala si si ubriaca tutte le notti si si fa di droga o mangia cibi spazzatura anche quello è una mancanza di purezza se ci stanno veramente controllando in un modo così capillare però sicuramente questi eventi fanno molto riflettere proprio per far capire quanto questi discorsi pur elementari in fondo e molto semplici siano dirompenti perché il nostro cervello è stato talmente condizionato a pensare sempre nello stesso modo e a ripetere sempre le stesse cose che per un po' di sicurezza cioè ripetere in fondo è una cosa sicura più ripetiamo le cose più ripetiamo sempre le stesse parole sempre gli stessi atti andiamo sempre nello stesso ufficio compriamo sempre lo stesso giornale mangiamo sempre nello stesso ristorante effettivamente questo in qualche modo rassicura le persone perché la ripetitività è rassicurante però in realtà poi blocca blocca la comprensione blocca la mente blocca l'intelligenza quindi è chiaro che che siamo dobbiamo scegliere o la sicurezza o la libertà e la libertà è sicuramente appannaggio dei coraggiosi di chi non vuole stare nella routine di chi vuole esplorare di chi vuole vedere chi vuole viaggiare sia fisicamente cioè viaggiare nel senso di vedere posti diversi incontrare persone diverse sia anche viaggiare interiormente cioè conoscere se stessi vedere quello che c'è il bello della diretta eh sì non è tanto bello però mi fa un po' paura perché ho paura che ci sia anche stato qualche qualche censura comunque allora torniamo alle trappole le trappole visibili e invisibili allora noi ce le portiamo dietro queste trappole anzi le tramandiamo di generazione in generazione la cosiddetta educazione in realtà è un indottrinamento quindi istruiamo i bambini a ripetere esattamente le cose che abbiamo fatto noi che noi abbiamo imparato dai nostri genitori in secolo sicurorum e questa la chiamiamo educazione o addirittura la chiamiamo tradizione e cosicché ripetendo gli stessi errori di generazione in generazione non veniamo mai fuori poi ci sarà qualcuno qualche individuo o qualche persona che esce dallo schema rompe la trappola fa l'azione rivoluzionaria di solito queste persone nelle famiglie sono considerate le pecore nere sono considerate pericolose perché rompono degli equilibri vanno alla ricerca di altro staccano con i vecchi schemi e ripropongono schemi diversi nuovi non è detto che i nuovi siano migliori dei vecchi però sicuramente c'è qualcosa che può evolvere altrimenti non c'è evoluzione evoluzione proprio perché va fuori va all'esterno per cui queste persone nelle famiglie sono considerate pazze anche nella società stessa i cosiddetti geni in realtà sono spesso dai contemporanei considerati pazzi proprio perché chi non si assoggetta non sta nelle regole in qualche modo esplora esplora altri mondi e altri modi di vivere quindi esce dalla trappola ultimamente la trappola è diventata più visibile cioè il potere si sta manifestando il potere di dominazione in tutto il mondo si sta manifestando in un modo molto molto forte e quindi questo è un momento di svolta è un momento che quando il tallone pigia forte sul collo ci sono due possibilità o si muore o ci si ribella e sono i punti diciamo i punti acuti in cui la società tutta ma anche ogni singolo individuo se si trova costretto troppo costretto alla fine in qualche modo romperà lo schema c'è un modo attivo è un modo passivo di rompere lo schema faccio l'esempio classico di una coppia che non va d'accordo e che però per quieto vivere lo facciamo per i figli non vogliamo creare traumi ai bambini rimangono insieme facendo finta che tutto vada bene direi che è un atteggiamento estremamente comune tra le persone questo tipo di coppia uno almeno delle due componenti della coppia può o rimanere lì quindi stare male scegliere di stare male o rompere la coppia e tentare l'avventura andare fuori dalla coppia se questa coppia è molto malata cioè stanno molto male insieme c'è molto dolore se le persone decidono di rimanere fermi e tra l'altro coprono questa vigliaccheria con l'idea di farla per i figli a bene dei figli ma i figli in realtà impareranno solo dei litigi capiranno solo che le persone si odiano capiranno solo che tutto va nascosto che la verità non bisogna dirla e che la bugia è sana quindi l'educazione dei bambini di questa triste coppia non è certo ottimale se la coppia se uno della coppia se ne va la coppia si rompe allora c'è la possibilità per entrambi di accedere a diverse situazioni forse anche più favorevoli e quindi c'è una chance che questa coppia riesca in qualche modo a farcela se invece si rimane nel male negli asti o nel nel litigio continuo nell'odio reciproco questa cosa negativa porterà delle malattie di uno del più debole dei due o addirittura la morte quindi uscire dalla trappola ha dei prezzi sempre molto alti non è facile uscire dalle trappole ci vuole molto coraggio la parola coraggio viene da cor che è il cuore e ago che vuol dire agire in latino quindi il coraggio è l'agire con il cuore azioni di coraggio non sono tanto quelle di buttarsi nella mischia della battaglia pur anche lì ci vuole un certo coraggio ma azioni di coraggio possono essere proprio mantenere le proprie idee andare sul rogo ma non confessare non firmare dei patti che potrebbero portare dei compromessi non accettare i soldi scegliere la purezza ecco quello è l'atto forse più coraggioso che un essere umano possa compiere scegliere di purificarsi e allora lì si cambieranno tantissime cose l'essere puro vedrà molto bene vedrà chiaro perché la purezza porta chiaroveggenza chiaro vedere chiaro quindi riuscire a capire bene le cose ma porterà anche solitudine perché le persone che fanno queste scelte spesso sono sole devono pagare questo scotto però se sono molto consapevoli è uno scotto giusto da pagare uno scotto anche buono da pagare e staranno bene le persone pure non si ammalano non possono ammalarsi perché non hanno più roba negativa addosso quindi la malattia avviene quando sia nel fisico che nella psiche abbiamo delle cose come dire velenose che ci avvelenano e quando invece siamo puri siamo purificati siamo puliti non abbiamo più niente quindi sicuramente la persona pura è una persona molto sana aspetto vostre domande se volete farmene giuseppe sera a tutti ciao bene allora visto che non mi fate domande e sono già le dieci e mezza io allora a questo punto e mi dispiace per l'inconveniente che c'è stato spero che si possa in qualche modo come dire riprendere in qualche modo e vi saluto vi auguro buonanotte buona lettura vi faccio vedere di nuovo il libro e soprattutto la copertina perché con tutti questi virus le barriere le varie i teloni che noi dobbiamo metterci mi sembra veramente preveggente e vi invito a leggere perché sapere chissà è libero se noi vogliamo essere liberi dobbiamo sapere le persone ignoranti non possono e mi dispiace molto ma non possono essere libere proprio perché ignorando non sanno che cos'è la libertà quindi vi invito a leggere tra l'altro diciamo con questo freddo anche questi mezzi lockdown la lettura è molto avvantaggiata quindi state insieme ai vostri cari abbracciateli soprattutto se sono bambini non fate mancare l'affetto mai perché ci nutriamo non tanto di cibo quanto di affetto la nostra anima si nutre di amore quindi vi saluto tutti vi do la buonanotte mi auguro che questo video nonostante l'inconveniente sia possibile sia avvenuta la registrazione io non lo so se non è avvenuta vorrà dire che lo rifaremo comunque sicuramente ci vedremo nel nuovo anno vi rinnovo le appuntamenti che saranno appunto una gennaio una febbraio una marzo eccetera eccetera man mano vi darò notizie del titolo e dell'argomento se avete anche voi argomenti da suggerire saranno ben graditi perché così insomma possiamo discutere io vorrei creare con voi una linea diretta una linea aperta e quindi qualche curiosità qualche cosa che voi avete possiamo approfondire in questi in questo tempo che ci viene dato quindi vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione mi auguro che il video sia stato registrato non lo so adesso vedremo di recuperarlo in qualche modo allora buonanotte buone buone feste cercate di stare bene di amarvi e di amare anche gli altri di non arrabbiarvi perché non conta nulla e di stare molto attenti pensate usate il cervello vi è stato dato usatelo perché è uno strumento estremamente utile vi saluto tutti e un grande abbraccio grazie grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti